Nessuna promessa per istituire a Foggia la Corte d'Appello, l'ha detto il Ministro della Giustizia Marta Cartabia questa mattina in un incontro all'Università di Foggia con Tano Grasso e con gli studenti. Il Ministro ha detto che è una promessa che è difficile da mantenere perché bisognerebbe modificare tutta la geografia giudiziaria. La stessa Ministra che però ha ribadito che l'attenzione sul territorio di Foggia è alta, altissima. C'è un pool di magistrati che sta indagando, che sta lavorando per il territorio così come l'intera squadra Stato. Ma allora ascoltiamo la brevissima dichiarazione che ha rilasciato la Ministra al termine di questo incontro. La nostra presenza qui è per segnalare la gravità dei problemi di Foggia, per segnalare la consapevolezza delle istituzioni, la vicinanza delle istituzioni. Ma è anche una presenza di un inizio, di un riscatto, di una voglia di reagire che abbiamo colto da parte della società civile in cui il contributo anche delle istituzioni culturali e dell'università può dare un contributo molto importante. Grazie.